Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud, chi vi parla è il vostro sempre più edge runner puzzillo e oggi vediamo l'anteprima game found del gioco da tavolo di Cyberpunk 2077. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno, non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui. Cyberpunk 2077 è un gioco da tavolo collaborativo da 1 a 4 giocatori della durata indicativa di 60 a 90 minuti a partita, edito grazie alla Go Onboard che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito il prototipo per potervi fare questo video e detto ciò possiamo iniziare con la panoramica e quindi vai con la spiegazione. Cyberpunk 2077 è un gioco da tavolo collaborativo dove ognuno dei giocatori andrà a guidare un edge runner. L'obiettivo dei personaggi è quello di trovare incarichi all'interno di Night City e quindi bisognerà spostarsi tra i vari distretti della città. Tra eventi, incontri e punti di interesse si affronteranno missioni sempre più pericolose e infatti i partecipanti dovranno decidere la modalità da giocare. Il gioco completo avrà degli scenari singoli, una campagna immersiva come anche una modalità afterlife dove vengono generati gli incarichi. Per quanto riguarda la preparazione bisogna innanzitutto sistemare il proprio edge runner e dunque i componenti iniziali si posizionano come mostrato. I personaggi hanno degli hacking veloci personalizzati con degli effetti specifici e stessa cosa il mazzo delle azioni con delle icone diverse. Ognuno dei presenti deve pescare quattro carte dal proprio mazzo personale però prestate molta attenzione poiché non potete ancora vederle. Per quanto riguarda questo video faremo una veloce panoramica alla missione del prologo e lo scenario è composto da tre parti differenti. Recuperata la scheda della missione questa ci dice quali tessere mappa dobbiamo utilizzare e quali ricompense scartare insieme ad alcune istruzioni che riguardano lo scenario che si sta giocando. Non appena sono state recuperate le tessere della mappa allora le posizioniamo casualmente così da creare questa forma e l'unica limitazione è che le entrate devono essere adiacenti allo spazio centrale. Fatto ciò inseriamo l'elevatore al centro della mappa e quindi vi posizioniamo le miniature degli edge runner. Invece per quanto riguarda i componenti restanti vengono posizionati negli appositi spazi nella mappa appena creata e non dimenticatevi di rimuovere le ricompense indicate sulla scheda della missione. Conclusa la preparazione di base giriamo la scheda e qui possiamo notare gli obiettivi da completare assieme alle ricompense associate. Non appena è stata preparata la riserva generale allora i partecipanti potranno scegliere le carte del crafting assieme alla carta hacking veloce. Per quanto riguarda quest'ultima verrà messa vicino la carta hacking personale e bisognerà sbloccarla durante la partita mentre per quanto riguarda le carte crafting vengono posizionate scoperte con i cubi sopra l'icona per costruire. A setup completato finalmente possiamo avviare l'app e quindi far partire una nuova partita e dopo aver seguito il prologo narrato allora si può procedere con l'inizio della partita selezionato il numero dei giocatori i personaggi presenti e il nome del team allora finalmente si può cominciare e quando viene premuto il tasto start mission i partecipanti possono vedere la propria mano di carte e hanno tre secondi per decidere chi sarà il primo giocatore mi raccomando da adesso in avanti la partita in tempo reale e dunque tutti i partecipanti condividono il tempo indicato sull'app quando inizia il turno del giocatore attivo per prima cosa deve controllare se vi è un incontro e questo si verifica se il suo edge runner si trova nella stessa stanza con la miniatura di un nemico oppure se è in linea di vista con un avversario la linea di vista viene sempre calcolata in linea retta basta che non vi siano porte o muri quando si verifica un incontro il giocatore attivo deve subito lanciare i dadi presenti nella sua plancia e questi indicano i possibili risultati per quanto riguarda il dado nero rappresenta i danni che il nemico ci ha inflitto e per segnare i danni abbassiamo il cubetto sul tracciato della vita mi raccomando prestate attenzione se il cubetto arriva a zero poiché in questo caso si ottiene una ferita l'edge runner può subire al massimo tre ferite complessive e se non può più pescare carte ferita allora tutti perdono la partita invece per quanto riguarda le carte ferita una volta ottenute vengono messe nella pila degli scarti e purtroppo queste carte ingolferanno la nostra mano invece per quanto riguarda il danno da assegnare semplicemente abbassiamo di 1 la vita del nemico colpito e di norma tutti i nemici sulla mappa iniziano con 5 punti vita se le ferite assegnate portano la vita del nemico a zero allora si toglie la miniatura e si lascia la basetta poiché successivamente il giocatore potrà cercare oggetti nel suo corpo concluso l'eventuale incontro il giocatore è obbligato a giocare una carta dalla propria mano e non appena è stata selezionata viene posizionata in cima alla pila degli scarti la carta mostra le tipologie di azioni che il giocatore può effettuare ma purtroppo può svolgere soltanto quelle della riga che ha sbloccato con un potenziamento ad esempio per quanto riguarda judy ha sbloccato un solo potenziamento verde e quindi può risolvere queste due icone sulla prima riga invece in quest'altro caso può risolvere le icone delle prime due righe e per quanto riguarda gli effetti possono essere risolti nell'ordine che preferisce il giocatore non appena un personaggio sblocca il suo quarto potenziamento allora non potrà potenziare più quell'aspetto del suo edge runner e in aggiunto ottiene la carta in cima al mazzetto del colore corrispondente la carta viene subito piazzata in cima al proprio mazzo e dunque più potenziamenti indicano più azioni da svolgere visto che ci siamo parliamo velocemente dei simboli più importanti e partiamo dal primo ottenere ram quando il giocatore ottiene ram semplicemente sposta verso destra il proprio cubetto che indica la ram e poi questa può essere spesa come azione gratuita per attivare un hacking veloce ad esempio spendendo un punto hacking judy può aprire una qualsiasi porta sul tabellone mentre spendendo 4 punti ram può sbloccare nuovi hacking alcuni effetti fanno riferimento al giocatore attivo mentre altri ai propri compagni e per quanto riguarda questo simbolo si aggiungono 10 secondi all'app mentre questo permette di curare il personaggio ogni punto cura fa alzare di uno il cubetto della vita e occhio perché ogni punto cura in eccesso permette di riattivare un potenziamento maggiore il potenziamento maggiore permette di eseguire un'icona mostrata sullo stesso e se ad esempio judy utilizza il suo potenziamento maggiore per ottenere una ram allora lo deve coprire così da indicare che l'ha utilizzato in sintesi ogni volta che la vita del personaggio si trova a 4 e bisogna farla salire allora si riattiva un potenziamento maggiore e poi alcuni effetti di gioco ce ne faranno ottenere degli altri invece per quanto riguarda l'icona di interazione è possibile rimuovere un cubetto da una propria carta crafting e quando tutti i cubetti sono stati rimossi allora l'effetto della carta può essere utilizzato in aggiunta con l'effetto di interazione se si adiacenti a una porta la si può aprire così da sbloccare il percorso però attenzione che si ottiene anche la linea di vista infine per ogni icona combattimento bisogna applicare un danno a un nemico in gittata mentre ogni icona con lo stivale ci permette uno spostamento quando un personaggio si muove allora si può spostare su una casella collegata ortogonalmente e quindi ne può approfittare di una porta aperta come anche di una breccia che è stata creata in un muro se il suo movimento termina in una casella con una ricompensa allora come azione gratuita può recuperare quella ricompensa però questa non viene rivelata se invece si muove in uno spazio con all'interno un nemico allora subisce subito un danno mentre ancora questione differente se si muove in uno spazio con una lettera gli spazi rappresentano dei punti di interesse o degli obiettivi per delle missioni e se il giocatore completa la missione ottiene le ricompense nel caso del prologo semplicemente bisogna giocare una carta gialla nello spazio d e quindi quel giocatore ottiene un potenziamento giallo insieme alla carta che è mostrata da quest'icona proseguendo con gli scenari ci saranno missioni secondarie come anche principali e alcune missioni richiederanno la cooperazione tra più personaggi in più alcune ricompense specificano nuove armi e le armi ci fanno ottenere nuovi dadi per gli incontri come mostrato sulla carta della pistola archangel l'arma può effettuare fino a tre danni ai nemici e parliamo infine di come si esce da una missione se un personaggio rientra all'interno dello spazio principale allora può decidere di lasciare la missione e questo servirà come requisito di alcuni scenari il problema è che un edge runner che ha lasciato la missione non può più interagire e ciò significa che dovrà attendere gli altri quindi per quanto riguarda il turno del giocatore attivo ricordatevi che tutte queste procedure vengono eseguite in tempo reale e quando il giocatore non vuole non può più effettuare azioni allora dichiara che pesca nove carte la mano di carte deve sempre tornare a quattro e dunque il giocatore pesca dalla cima del suo mazzo dal momento che inizia a pescare può partire il prossimo giocatore però fate attenzione che non appena finisce il mazzo di pesca del giocatore attivo questo dovrà rimescolare tutti gli scarti così da formare un nuovo mazzo la procedura viene chiamata ricarica e ricordatevi che anche il passaggio che vi ho appena descritto viene effettuato in tempo reale man mano che i giocatori proseguono con i loro turni il tempo passa e quando questo si esaurisce il giocatore attivo deve concludere il suo turno tranquilli perché la missione non è finita semplicemente avete esaurito un'unità di tempo di combattimento e la missione invece fallisce se esaurite tutte le unità di combattimento le unità vengono riportate da queste icone sull'app come anche dalla scheda missione non appena la fase di combattimento è finita allora si passa alla fase di cooldown e la fase di cooldown viene gestita senza il tempo reale la fase è praticamente un ripristino dove si applicano alcuni passaggi e innanzitutto vengono scartate le carte in mano ai giocatori e vengono messe nella pila degli scarti mentre poi si possono installare nuovi potenziamenti come anche rivelare le ricompense raccolte e anche ottenere i bonus dei corpi come abbiamo visto nel setup finalmente si possono assegnare nuove carte crafting e un hacking veloce e poi si procede con l'attivazione dei nemici questi vanno a cercare i personaggi così da poterli sparare e uccidere mentre poi arrivano nuovi nemici non appena abbiamo concluso con tutte le operazioni di questa fase finalmente i giocatori pescano quattro carte ma non le guardano e poi quando il primo giocatore preme sul tasto start allora si possono vedere le carte e si sceglie il primo giocatore deciso che andrà per primo inizia così una nuova fase combattimento e dunque si ricomincia con il tempo condiviso la partita continua così fino alla vittoria o alla sconfitta e se i giocatori hanno perso dovranno ripetere lo scenario mentre se hanno vinto proseguiranno con quello successivo mi raccomando alcune missioni risolte portano a sbocchi diversi e quindi bisogna selezionare la missione corretta quello che avete appena visto è soltanto il tutorial praticamente il prologo ma occhio perché net city riserva tante sorprese imprevisti arriviamo infine alle mie impressioni iniziali su cyberpunk 2077 il gioco da tavolo vi ricordo che sono impressioni iniziali perché si basano sul prototipo e fra l'altro lo scatolone che mi è stato fornito manca della modalità campagna praticamente è possibile giocare i tre capitoli che compongono il prologo barra tutorial più vengono date delle informazioni su come si sviluppa il resto del gioco ora la prima cosa non dovete confonderlo con cyberpunk 2077 le gang di night city perché in quel caso stiamo parlando di un competitivo con controllo territorio qui le cose cambiano drasticamente e abbiamo un collaborativo reale e infatti so già che i giocatori più tradizionalisti purtroppo non apprezzeranno questa scelta prima di continuare vi ricordo che la campagna game found partirà settimana prossima e infatti chi vuole qualche informazione in più può cliccare direttamente su questo link in aggiunta per chi preferisce il gameplay sappiate che esattamente tra qualche giorno farò uscire un video dedicato con una partita completa così che possiate vedere meglio come si struttura il titolo altra informazione importante è che la go on board ha già confermato la localizzazione in italiano e infatti tra carte app e la mappa di night city ci sta tantissima dipendenza dal testo adesso come vi anticipavo prima le partite saranno in tempo reale e infatti vi sarà il cronometro legato all'app e qui i giocatori si dovranno sbrigare perché il tempo è condiviso tra tutti i turni in pratica ci saranno dei round di combattimento con un tempo limitato e lì i giocatori dovranno gestire le loro azioni tra risolvere l'incontro giocare una carta e attivare gli effetti vedrete man mano il tempo esaurirsi e quindi arrivare alla conclusione però tranquilli che non appena una fase di combattimento si conclude vi è una fase di ripristino qui si possono seguire tutti i passaggi con la dovuta calma perché comunque si dovrà gestire il movimento dei nemici come anche il loro respawn per non parlare dell'installazione degli upgrade ottenuti e delle ricompense raccolte quando si comincia una partita bisogna scegliere uno scenario oppure proseguire con la campagna ed è stata anche prevista una modalità dove vengono generati i lavori selezionato lo scenario dovremo preparare il tabellone con tutti i componenti e poi fatto questo sarà il momento di preparare il nostro edge runner molto carino il fatto che i personaggi abbiano dei mazzetti personalizzati che li spingono maggiormente verso alcune direzioni rispetto ad altre si potrà interagire con l'ambiente vi sarà il crafting anche l'ottenimento della ram per attivare gli hacking veloci come ancora sfruttare il movimento e l'attacco per eliminare i nostri avversari veramente apprezzato il fatto che alcune situazioni richiedano grande cooperazione perché comunque in alcuni obiettivi vi devono essere più personaggi che svolgono delle azioni oltre ciò mettiamo un armamento che si può personalizzare e potenziare come anche strategie avanzate e una che mi è piaciuta tantissimo è quella di sfondare i muri per aggirare i nemici per quanto riguarda la durata di una partita siamo all'interno di un'oretta massimo un'ora e mezza e vi posso assicurare che le fasi di combattimento sono veloci e frenetiche l'ansia viene generata non tanto dal fatto di riuscire a superare una missione ma più che altro di sfruttare il maggior tempo possibile e infatti il mio consiglio è di non mettere pressione ai vostri compagni altrimenti si crea un casino sinceramente le sensazioni che mi ha lasciato cyberpunk 2077 sono assolutamente positive però dovete rientrare in quella categoria di giocatori che amano le app e il tempo reale se preferite un gameplay più ordinato e classico allora lì ve lo sconsiglio mentre per chi cerca un'esperienza frenetica è un acquisto assolutamente consigliato infine per chi teme sul fronte della rigiocabilità sappiete che ci sono molti elementi variabili e non stiamo parlando soltanto di un setup che cambia di partita in partita ma anche di alcune conseguenze che portano a missioni differenti oltre ciò da quel poco che ho potuto sbirciare si prospetta una campagna corposa che lascerà scegliere i giocatori le missioni da affrontare come anche gli incontri e gli eventi invece per chi teme sul fronte della scalabilità sappiate che il gioco scala perfettamente da 1 a 4 giocatori perché comunque l'app calcola in tempo in base ai partecipanti e al tipo di personaggio insomma se state cercando un collaborativo in tempo reale allora recuperate cyberpunk 2077 detto ciò siamo arrivati alla fine del video vi ricordo che tra qualche giorno esce il gameplay quindi lì vedrete con i vostri occhi come si struttura una partita per adesso voglio sapere cosa ne pensate vi è piaciuta la panoramica anche le mie impressioni c'è qualcosa invece che non apprezzate stona fatemi sapere commentate qua sotto vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti